Un tragico incidente dall'esito mortale è avvenuto questa mattina attorno alle ore 9 lungo la strada provinciale che da Foggia conduce a Troia. Un uomo di 38 anni, Antonio Cianci, magazziniere della società Foggia Calcio, militante nella serie D, ha perso la vita. Da quanto appreso, il giovane era la guida di un furgoncino con a bordo altre due persone, tra cui un calciatore rosso-nero, entrambe ferite in modo lieve e trasportati al Policlinico, riuniti di Foggia per gli accertamenti del caso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia di Stato, il furgoncino avrebbe perso il controllo finendo sull'altra corsia per poi ribaltarsi dopo aver impattato sulla parete di terra naturale che costeggia la stessa arteria stradale. Il tutto è avvenuto all'altezza di Lucera. Un bilancio drammatico con il giovane magazziniere che ha perso la vita immediatamente dopo l'accaduto. La vittima e i due feriti erano diretti a Troia dove la squadra avrebbe dovuto svolgere una seduta di allenamento. Sul posto, oltre alla polizia di Stato per i rilievi del caso e la ricostruzione, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La strada provinciale in questione in passato è stata già teatro di numerosi sinistri stradali, di cui alcuni mortali. Antonio Cianci lascia mogli e figli. La società del Foggia Calcio si stringe attorno al dolore della famiglia ricordandolo per il suo sorriso, le sue battute, le pacche sulla spalla che portavano bene, come diceva lui. Un ragazzone genuino, sempre disponibile ed altruista, pronto a farsi in quattro per aiutare gli altri.